Leucemia mieloide acuta. Signori, come riconoscerla ma soprattutto come combatterla? Quindi quando si parla di tumori del sangue occorre evitare di fare confusione, quindi cercheremo di fare chiarezza. Sono tanti e sono diversi tra di loro e soprattutto si manifestano con dei sintomi, con dei segni non sempre particolarmente chiari, tanto che a volte ci vuole del tempo per poter arrivare alla diagnosi. Si va quasi per esclusione, quasi, ma per la leucemia mieloide acuta appunto caratterizzata da proliferazione incontrollata delle cellule staminali del midollo osseo che sono cellule immature, il riconoscimento è invece abbastanza rapido, cioè si riesce a vedere. Quindi sotto questa definizione rientrano diverse patologie, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, è arrivata a riconoscerne numerose e a classificarle. Tutti conosciamo le cellule del sangue, ma sappiamo meno dei loro progenitori, le cellule staminali emopoietiche, che hanno il compito di produrre globuli rossi, globuli bianchi e piastrine, al ritmo di circa 100 miliardi al giorno. Ovviamente, se questa, officina, che lavora all'interno del nostro corpo non opera al meglio qualcosa si rompe. In particolare, nella leucemia mieloide cronica la cellula staminale emopoietica non riesce più a completare la sua maturazione e inizia ad accumularsi nel midollo osseo, sottraendo progressivamente spazio alle altre cellule staminali normali. In molti casi questo processo è rapido e per questo la leucemia viene definita acuta. Questa condizione può manifestarsi a tutte le età, ma la sua incidenza aumenta progressivamente durante il corso della vita, raggiungendo un picco tra la sesta e l'ottava decade di vita. È, quindi, una patologia che colpisce prevalentemente le persone anziane. Attenzione però, la malattia può avere diverse forme, come ricorda Alessandro Rambaldi, professore ordinario di ematologia, Dipartimento di Oncologia ed Ematologia Università degli Studi di Milano e direttore UOC di Ematologia Azienda ASST, Papa Giovanni XXIII, di Bergamo. Un primo gruppo comprende leucemie mieloidi acute che posseggono delle anomalie citogenetiche ricorrenti e sono le più frequenti. Si tratta di traslocazioni cromosomiche che definiscono proprio delle entità particolari. Un secondo grande gruppo è costituito dalle leucemie mieloidi acute che insorgono su una precedente mielodisplasia. Le mielodisplasie, che una volta erano definite come preleucemie, sono malattie molto diverse una dall'altra e con una storia naturale diversa, alcune più rapidamente aggressive e altre più indolenti. Anche in questo caso si riconoscono delle anomalie citogenetiche molto peculiari a carico, ad esempio, del cromosoma 7 o 5. Un altro gruppo molto importante di leucemie mieloidi acute è quello che è secondario a un precedente trattamento ed è un gruppo che sta acquisendo un'importanza sempre maggiore. Si tratta di una leucemia acuta correlata ad una terapia effettuata in precedenza con farmaci chemioterapici o radioterapia per un altro tumore, per esempio della mammella o di alcuni linfomi, segnala l'esperto. Questo è un settore di enorme interesse, purtroppo è un prezzo ai nostri precedenti successi. Infatti, quella terapia chemioterapica o radioterapica che ha permesso di sconfiggere un primo tumore può favorire lo sviluppo di una leucemia dopo 10, 20 o 30 anni. Esiste poi un altro ampio gruppo di leucemie mieloidi acute che hanno per esempio una relazione con altre anomalie citogenetiche, come la sindrome di Down. I sintomi sono la conseguenza dell'arresto della normale produzione delle cellule del sangue. Il paziente smette di produrre globuli rossi per cui è anemico, stanco, pallido, smette di produrre globuli bianchi per cui è esposto a rischio di infezioni, polmoniti, ascessi, infezioni profonde. Ancora, il paziente non produce più piastrine, le cellule della coagulazione e ha manifestazioni emorragiche a carico della pelle, delle mucose e qualche volta purtroppo anche degli organi vitali, come il sistema nervoso centrale per cui la malattia si può presentare con un evento drammatico quale un'emorragia cerebrale. Questo è particolarmente frequente nella leucemia promielocitica acuta, una forma caratterizzata da un'anomalia cromosomica ricorrente. Insomma, una diagnosi che arriva presto, entro due settimane dal primo accesso del paziente al centro di cura ed è accompagnata da emozioni quali paura, sconforto, rabbia, preoccupazione. Un'assistenza sempre più integrata e multidisciplinare che insieme alle figure dell'ematologo e dell'infermiere comprende ormai spesso anche lo psicologo e il nutrizionista. Una serie di bisogni ed esigenze legati alla qualità di vita che cercano nuove risposte, come il potenziamento dell'assistenza domiciliare, il supporto psicologico, la puntualità di visite e controlli e il trasporto in ospedale. Sono queste le principali tappe nel viaggio di diagnosi e cura dei pazienti con leucemia mieloide acuta raccontate attraverso l'indagine leucemia mieloide acuta. Un viaggio da fare insieme, promossa da AIL Associazione Italiana Contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, realizzata da Doxa Pharma con il supporto non condizionante di abibivie. Pazienti, caregiver, ematologi e volontari AIL hanno risposto a questionari online validato da un board scientifico composto da ematologi di rilievo nazionale per mettere a fuoco il percorso del paziente e la sua qualità di vita, la gestione della patologia da parte dei clinici, i bisogni e le richieste di tutte le figure coinvolte. L'obiettivo, ovviamente, è aiutare chi si trova ad affrontare la malattia nel modo migliore. Seguite la pagina, oh, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. E se volete potete trovarmi anche sul format di intrattenimento, basta cercare Gratta e Vinci con Max e lì ci divertiamo un po' con i famosi Gratta e Vinci, tanto pago io, che me frega. Detto questo vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.